Più fuoco in quello in fondo, più fuoco in quello di mezzo. Va bene, Harry. Non è ancora mezzogiorno? È l'una e mezzo di notte. È domenica? No, quella è già passata. Fa vedere. Guarda come fa. Misura con gli occhi. È incredibile. Com'è il calore? È giusto. È qui che voglio vivere. Con te e Danny. Mi manchi tanto. Mi manchi anche tu. Nelle prime due arcate ci vuole più fuoco. Metta questa da due metri. Gli e Danny andiamo... Harry! Guarda! Harry! Harry! Harry, sta bene? Niente di grave. Aiutatemi a ralzarmi. attento. Si è rotta. È solo una storta. Tutto il calore esce dalla parte di dietro. Deve andare sul tetto per chiudere gli sfoghi. Ma se non riesce neanche a camminare. Vado su io. Si metta gli zoccoli. Ci sono duemila gradi lì dentro. Metta quanta più legna può qui sul davanti. Dobbiamo mantenere il fuoco sempre alto. Va bene. Per coprire gli sfoghi là in fondo, usi i mattoni. Un 70 centimetri quadri. D'accordo. Va bene? Non so. Forse bisogna coprire 80 centimetri. O 90. È difficile dirlo. Se non vado sul tetto. Signora Potter, ci vuole più legna nella terza arcata. Più legna, per favore. Signor Potter! Signor Potter! A posto! Più legna sul fuoco. Svelti. Più legna. Più legna. Più legna. Più legna. Più legna. Che è successo? Ha preso una storta stanotte verso le due. È caduto dalla scala. E chi è salito su? Io. Ho messo i mattoni sull'angolo in fondo a sinistra. Un'ora dopo li ho spostati su quello destro. All'alba non c'era più fumo. Ci vediamo domani alle nove. Non me lo ricordi. Più calore di così, non lo reggono. Chiudere tutto. Chiudere tutto. Ok. Forza, di corsa.